Donato, qual è stato il tuo percorso e la tua formazione? Allora, attualmente sono nell'oratorio salesiano di Caserta, come incaricato dell'oratorio appunto, però devo andare a ritroso per ritrovare gli elementi vocazionali della mia storia, della mia vita e sicuramente devo tanto all'oratorio di Santeramo, perché mi ha formato, mi ha aiutato, mi ha accompagnato attraverso i salesiani e i ragazzi di questa città. Devo sicuramente ringraziare anche la parrocchia del Sacro Cuore, perché nella mia età adolescenziale mi ha aiutato, mi ha aiutato a essere catechista, mi ha aiutato a essere animatore. Poi il 2000 c'è stata un po' la svolta, perché incontrando l'oratorio, incontrando i salesiani, incontrando il cortile, da un'esigenza di formazione, da un'esigenza di spiritualità, ho scelto di rimanere in oratorio. Poi la comunità, l'accompagnamento dei salesiani, dei ragazzi, hanno fatto gioco forza perché io potessi pensare di donare la mia vita ai giovani. Ecco, questo penso che sia l'elemento principale della mia vocazione, il fatto di poter dare qualcosa ai giovani nell'esperienza che ho incontrato durante questi anni di formazione a Roma, a Messina e soprattutto nell'oratorio di Taranto. Ecco, questo un po' è stato il mio percorso in questi dieci anni ormai di formazione. Dire qualcosa sulla mia vocazione, non c'è stato nessun elemento straordinario, ma ho vissuto l'ordinarietà della vita in modo bello, come appunto Domenico Savio diceva anche alla sua compagnia, cioè vivere in maniera straordinaria all'ordinario. Ecco, questo è uno degli elementi che vorrei anche lasciare e vorrei chiedere alla cittadinanza un po' anche di pregare di essermi vicino in questo momento, perché essere sacerdote oggi è un impegno non da poco. Essere poi sacerdote per i giovani, perché i giovani oggi hanno bisogno di trovare una strada e soprattutto una speranza, è ancora più difficile. Ecco, hai parlato dei giovani, proprio per questo hai scelto il carisma salesiano? Beh sì, è stato un po' un caso, perché già all'interno della parrocchia del Sacro Cuore lavoravo con i ragazzi, lavoravo con i giovani. Poi l'esperienza e anche il volere di Dio, perché poi uno andando a ritroso nel suo cammino, rileggendo la propria vita, capisce che quello che c'è stato prima non è stato un percorso che finisce, ma è stato un qualcosa che poi va avanti e che tu ritrovi, perché il Signore ti sta indicando una strada. Ecco, il fatto di aver intrapreso un'esperienza con i giovani al Sacro Cuore e poi l'averla continuata con i ragazzi dell'oratorio, secondo me è un elemento importante. Sei d'accordo con il luogo comune che ormai sentiamo quotidianamente dell'inaccessibilità di educare i ragazzi? Credo che dobbiamo avvicinare le famiglie, dobbiamo offrire degli spazi e delle proposte valide ai giovani, perché i giovani possano stare tra di loro, confrontarsi e crescere insieme a chi ha fatto già esperienza di gioventù e di giovani, appunto, e di giovani di qualsiasi contesto. Ecco, credo che questo, che anche io vivo all'interno di Caserta, in un modo o nell'altro, che il ricco deve incontrare il povero e anche l'italiano deve incontrare anche l'emarginato, l'extracomunitario, quindi credo che l'aspetto sociale oggi nella Chiesa deve essere più forte, quindi entrare sempre di più in sintonia, in sinergia con le istituzioni, con i comuni, con le province, quindi con le scuole soprattutto e poi mettersi in maniera particolare anche in dialogo con le famiglie.